Ritorna a Monterosso-Calaboro l'escursione ciclistica Beck Madonna del Rosario, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica in Ormani di Mileto, con il patricinio dell'Amministrazione Comunale di Monterosso-Calabor, dell'Uispe Regione Calabria Ciclismo, dell'Epli Calabria e la collaborazione della Confraternita del Santissimo Rosario e della Proloco, che come ogni anno ha richiamato molti ciclisti e spettatori provenienti da tutta la regione. Si snoda per una distanza complessiva di 68 chilometri con un dislivello altrimetrico di 1.159 metri, interessando gran parte della Valle dell'Angitola, con i comuni di Monterosso-Calabro, Capistrano, San Nicola da Crissa, Filogaso, Santonofrio e Maierato. Un percorso che ha consentito ai partecipanti e agli spettatori di godere le splendide ricchezze ambientali che insistono intorno al Lago Angitola, compresa la riserva naturalistica del WWF e quelle culturali presenti numerosi in questi territori. La partenza alle 9 dal Palazzo Municipale, così come l'arrivo verso le 13, con le prime azioni e un lauto pasta party, offerto dalla Confraternita del Santissimo Rosario. Noi con questa manifestazione vogliamo promuovere il territorio e fare dello sport una giornata di divertimento e di ritrovo per tutti i ciclisti. Ci sono diverse squadre, moltissime ASD della regione, che sono squadre amiche e squadre che sono venute a trovarci perché l'interessamento per questo BEC è regionale, quindi di conseguenza è una manifestazione molto partecipata.